in questo video ti presento i serator pro g2 la versione professionale classica della linea serator roche del 2017 è il modello più utilizzato dei portieri professionisti a cui quest'anno è stata affiancata anche la versione evolution insomma è il guanto tradizionale quello standard con il lattice g2 ultra che il lattice migliore a disposizione di roche ed ha una costruzione leggera senza dita preformate senza lavorazioni particolari quindi g2 ultra soft taglio piatto con cucitura esterna collaborazione sul pollice come vedete che lo circonda leggermente sul sulla parte dell'unghia le cuciture esterne le vediamo che non sono compresse e compatte piccolo inserto il lattice anche sul mignolo non è presente lo shock shield advanced ma il pro flex si e facilita la mobilità delle dita lavorazione anche sul fianco del del guanto e air van system ovviamente per facilitare la traspirazione della mano quindi il pro g2 resta sempre il guanto più utilizzato dai professionisti sponsorizzati roche è quello che consigliamo per chi vuole un guanto professionale di tipo tradizionale